F-Type è stata lanciata oramai più di un anno fa nella sua versione convertibile e poi l'anno scorso nella sua versione coupé. Ha trovato un suo spazio sul mercato, in Italia ha circa un 10% di quota di mercato, ed è stata apprezzata subito per le sue caratteristiche. Da una parte il fatto di essere un po' l'erede della E-Type, che è stata una macchina storica e gloriosa. Dall'altra, in modo più concreto, l'estremo equilibrio dei pesi, veramente una vettura che ha una distribuzione 50-50, che quindi questo consente in tutte le circostanze di guida, sia ad alta velocità sull'autostrada, sia su percorsi tornanti, una distribuzione ottimale. Oggi presentiamo anche la versione quattro ruote motrici, che aggiunge un qualche cosa. In effetti, essendo la vettura già di per sé molto equilibrata, ha già delle performance stradali di tenuta di strada ottime anche senza le quattro ruote motrici. Con le quattro ruote motrici aggiunge un qualche cosa di più in termini di stabilità su curvoni autostradali, su terreni che non siano perfettamente aderenti. La vettura ha tre livelli di motorizzazione, due motori di 3.000 di cilindrata da 340 e 380 cavalli e un motore da 5.000 V8 da 550 cavalli. La versione quattro ruote motrici partirà dal motore da 380 e sarà anche sul motore da 550 cavalli. Il sistema di trazione a quattro ruote motrici è governato da una centralina che decide l'allocazione della distribuzione della trazione a seconda delle necessità, evitando sovrasterzate e sottosterzate. In effetti nasce con una trazione posteriore, ovviamente, ma può distribuire fino al 50% della coppia sulle ruote anteriori. Questo per correggere e indirizzare automaticamente, quindi è qualcosa che avviene nell'arco di millisecondi, situazioni che possono essere problematiche in termini di aderenza.